Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 9420, Football Manager Italia Siamo qui nel nostro Football Manager 2020 con il nostro mitico Gianluca Grava e con il Southend E oggi andremo a parlare di calciomercato brevemente perché c'è una piccola novità E poi andremo a vedere qualche partita sia di campionato e forse anche di Coppa Nazionale Per quanto riguarda il mercato, velocemente vi dico che abbiamo mandato via quel giocatore che avevamo in prestito Che non ci piaceva e di cui non mi ricordo neanche il nome Ci serviva un trequartista ma ho trovato in prestito questo Jason Knight che abbiamo preso dal Debbie Country Paghiamo veramente pochissimo, 23.000€ ed è un giocatore comunque veramente molto molto completo Può giocare sia come trequartista che come centrocampista e quindi nulla Per il momento lo sto provando a titolare, oggi giocherò a titolare perché mi sembra comunque un giocatore molto interessante Sicuramente di più rispetto al giocatore che abbiamo mandato via anche perché era esterno e noi non usiamo giocatori di fascia Direi che comunque per concludere il mercato ci sta, è un buon giocatore che sicuramente ci darà una grande mano Giusto per completezza vi faccio vedere i soldi che ci sono rimasti Praticamente 0€ budget trasferimenti, monti in gaggi 93.000€ Diciamo sono soldi che potrebbero essere utilizzati per comprare, per prendere un altro giocatore Però direi che comunque la rosa è completa, alla fine siamo 22 Quindi due giocatori per ogni ruolo, poi vabbè ci sono anche i giocatori che possono fare più ruoli Quindi tendenzialmente sono abbastanza soddisfatto sia numericamente che qualitativamente della squadra che abbiamo fatto Detto questo direi che possiamo andare a vedere il nostro esordio stagionale con Mario, Davis, Flano, Joe, Demetrio, Milligan, Wemba, Knight, Bijo, Steven e Zelov in campo Speriamo bene ragazzi, non sarà assolutamente una partita facile perché il nostro esordio, perché siamo fuori casa E anche l'esordio di mister Gianluca Grava Ma soprattutto ragazzi, molti giocatori, praticamente 9 su 11 fanno quest'oggi il loro esordio In una squadra appunto per loro nuova, in una squadra che per molti di loro è la nuova da praticamente una settimana Cioè alcuni di loro sono arrivati neanche una settimana fa Quindi ovviamente non c'è grande affiatamento fra i vari giocatori Molti loro ancora devono imparare meglio la tattica Quindi soprattutto le prime partite saranno molto difficili Praticamente tutte saranno difficilissime Ancora di più queste perché comunque ancora molti meccanismi, molte tattiche, molte cose devono strutturarsi Mi sto impapocchiando, vabbè E quindi nulla È arrivato Knight, giocatore che comunque mi sembra abbastanza interessante L'ho già subito schierato in campo Anche per vedere se abbiamo fatto o meno un buon acquisto Intanto c'è Zelov Zelov sarà chiamato a segnare una valanga di gol Speriamo che lo faccia E ho provato a mandare anche in prestito White Il terzino destro sbarra difensore centrale Sbarra non so fare nessuno di tutte e due E ovviamente ho anche provato a venderlo Ma nessuno l'ha voluto Quindi improbabilmente rimarremo così A meno di grandi novità di mercato Perché comunque numericamente siamo messi più che bene Quindi a meno di qualche eccessione Non possiamo acquistare nessuno Anche perché con 90.000 euro A meno di prendere un altro giocatore in prestito Cosa che vorrei evitare Almeno di... Se non ci sarà veramente una grande occasione Ecco non possiamo fare molto Intanto sta attaccando ancora il Coventry Non Southend non sta facendo veramente un'ottima partita Ci gioca la spalla dall'altra parte per Davis Davis per Wemba Wemba per Davis Dialoghiamo Ancora cerchiamo di uscire Soprattutto fare un'azione C'è Demetriu che cambia il campo Ma c'è Wemba ancora Milligan Flano Flano la spara Per Zelov Lui in teoria non sarebbe il difensore che imposta È giù Ma l'ha fatto anche abbastanza bene Zelov non ha trovato ovviamente il tap in vincente Perché ha anticipato Però stiamo andando abbastanza bene Qui Steven cercava Anche lui la rete Ma purtroppo Marosi Ci ferma Ancora 0-0 Statistica alla mano Stiamo giocando alla pari Ovviamente il country ha fatto un'azione pericolosa in più Se non sbaglio C'è Mason ancora Che attacca Bravo qui Bijo ad anticipare Il giocatore Però poi è stupido A sbagliare il passaggio Anche se Steven Riesce a prendere il pallone E segna la prima rete stagionale Sua E ovviamente anche del Southend Se avesse sbagliato L'avrei Praticamente Tolto subito Perché potevamo fare il gol Cosiddetto della merda E praticamente Steven Poteva passarla A Zelov Che tutto solo A porta vuota Poteva segnare Un gol facile facile Per fortuna Non ha sbagliato Per fortuna Siamo sull'1-0 Bene così ragazzi Bene così Buono anche il pressing Questa tattica Non è molto Stile Lecce Quindi non è poi Così tanto Offensiva E con un pressing Così asfissiante Però insomma Sono contento Che Quel minimo Lo facciamo E anche abbastanza bene Qui però Difesa abbastanza scoperta E Per fortuna Il giocatore Del country Ha fatto un tiro Bruttissimo Però Abbiamo rischiato parecchio 1-0 Southend Intanto scorrono anche Gli altri risultati Ma Per il momento Essendo la prima partita Diciamo che non ci interessa Più di tanto Dobbiamo assolutamente Evitare di rilassarci Perché Non è ancora detta nulla Anzi Secondo tempo Sarà ancora più difficile Perché dobbiamo Difendere il risultato In teoria Se riuscissimo a trovare Anche La via Della seconda rete Sarebbe un miracolo Attacca ancora il country E' una cosa ovviamente Molto positiva C'è Flano Bravo Bicho Milligan Forse contro Piede Southend C'è Zelov Zelov Al centro c'è Steven Potrebbe trovarlo C'è Zelov Steven Bello 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 Bel gol Veramente Una sassata Tirato Steven Bello pure L'assist di Zelov Non è stato egoista Non ha provato A trovare spazi Impossibili Per trovare La via della rete Perché praticamente C'erano Tre giocatori Su di lui Invece Uno solo su Steven Qui Erroraccio Della Difesa di casa Ma meglio per noi Ragazzi Che comunque Stiamo giocando Una buona partita Alla pari Con Coventry Non posso assolutamente Dire Ci meritiamo Di essere in vantaggio Addirittura per due reti a zero Però chi se ne frega Ecco Siamo stati sicuramente Più cinici Del Dei padroni di casa Ecco Io ho domandato di più Di solito In Football Manager 2019 Se lo dicevi Erano sempre Bene o male contenti I giocatori In questo caso Un po' meno Sono sotto pressione Io lo dico a priori Ragazzi Perché comunque Anche con un vantaggio Così importante Dobbiamo stare attenti Conosciamo abbastanza bene Il gioco E purtroppo Spesso e volentieri Tende a metterti In difficoltà O comunque A portare la squadra A fare mille gol In pochissimo tempo Non ho sbagliato Volevo mettere Ethan A posto di Bicio Che è abbastanza stanco Poi aspettiamo Gli ultimi dieci Cinque minuti Per fare l'ultimo cambio Che tanto Può essere Davis Tanto Knight Anche perché È già ammonito È anche abbastanza stanco C'è Ne ho entrato Abbastanza impronunciabile Milligan La passa a Davis Bravo qui in Wemba Passaggio a retrato Anche un po' pericoloso Flano Davis Tiene il pallone Però è tutto solo C'è Flano La spara Dall'altra parte Per Buonuomo Bello il cross Ma non ci arriva Zelov Ancora Wemba Wemba Ancora per il terzino destro La passa al centro Ancora per Zelov Non riesce a trovare Il tapin vincente Ma ragazzi Questo Steven C'è Zelov era chiamato A segnare Ma Steven Sta facendo Una partita E un inizio di stagione Incredibile Tripletta personale Bella qui l'azione Ragionata Bella gestita Si vede l'importanza Di Wemba Che sa far circolare Alla perfezione Il pallone Bene così 3-0 secco Direi Ottimo esordio stagionale Di Gianluca Grava E soprattutto Del nostro Southend Ancora Wemba C'è Davis Davis sulla fascia sinistra Non lo so Si addormenta sul pallone Non so che cacchio Ho combinato Però ora ragazzi Che è tutto sta Difesa così alta Non mi piace Perché poi non siamo Neanche troppo veloci Qui Se troviamo un attacco Un po' più Appunto veloce Ci fa male cane Devo un po' Rivedere Sta cosa nelle tattiche Con l'Arsenal Non avevo visto Un Southend Così Alto Ecco Quindi non so Perché lo stanno facendo Quest'oggi Non ho cambiato Praticamente nulla Dalla tattica Comunque Attacca ancora Il Coventry Ma per fortuna Lo fa In malo modo Ci abbiamo l'ultimo cambio In teoria Potremmo togliere Siamo Wemba Che Il Buon Davis Leviamo Wemba Ragazzi Anche perché Un po' più anziano Un po' più Tendente Allo stancarsi Quindi Facciamo il cambio Facciamo giocare anche 3R Che è un ottimo giocatore Mancano Praticamente due minuti Di recupero L'arbitro Non so perché Ne ha dati così tanti Considerando il 3-0 A meno che adesso Il Coventry Non faccia 3 goal In neanche un minuto Direi che questo Minutaggio è stato Un po' troppo Esagerato E poteva evitarlo Comunque Attacca ancora Il Coventry Che Forse nella finale Del secondo tempo Si è dato una svegliata E qui Ma che ha fatto Un euro goal Ah no no La palla è andata fuori Sembrava strano Che poi Si è andata a vedere Le statistiche Adesso che La partita finirà Noi abbiamo giocato Quasi peggio Del Coventry Loro hanno Attaccato di più Ci sono più tiri Anche più tiri In porta Forse tendenzialmente Siamo stati più cinici E abbiamo Siamo stati bravi A creare occasioni Da goal Più importanti Ecco probabilmente Il Coventry Ha fatto un po' stesso palla Un po' passivo E delle azioni Abbastanza inutili Ecco Mancano 9 secondi La partita si dilunga Anche abbastanza inutilmente L'arbitro potrebbe fischiare Lo fa Credo adesso No Non lo so Si è innamorato Della partita E vuole andare avanti 3 a 0 Appunto Come vi dicevo Statistiche alla mano Coventry Tiri Un po' di più Forse tiri un po' alla cazzo Visto che poi Sono solamente Sette in porta Come noi Ecco Dopo Lo splendido Esordio Di campionato Contro il Coventry Partita Che abbiamo vinto 3 a 0 Facciamo il nostro esordio In casa Finalmente E speriamo di fare Una bella figura Anche qui Davanti ai nostri tifosi Ovviamente ragazzi La formazione titolare È confermata Mario Demetri Joe Flano Davis Milligan Knight Wemba Bijo Steven E Zelov E quindi nulla Abbiamo la squadra Abbiamo il dodicesimo uomo Che sono i nostri tifosi Adesso dobbiamo solamente Fare un'altra grandita Prestazione Contro un Blackpool Che comunque Ho visto un po' I vari giocatori È una discreta squadra Non credo che sia Di certo la migliore Intanto arriva il gol Di gioco Però in fuorigioco Però sicuramente Non dobbiamo Sottovalutarla Ecco Poi Ci sarà la partita Di coppa nazionale Contro il Cambridge Ho deciso di saltarvela Perché comunque È una squadra di Diciamo Serie D Quindi League 2 E proprio per questo Voglio Ma la gioco da solo Ragazzi Vorrei andare abbastanza Avanti Diciamo questo Vorrei andare abbastanza Avanti Se non addirittura Finire agosto In questo episodio Quindi con 3-4 partite E semmai Giocandone io Da solo Alcune Perché come già detto Non voglio Far durare le stagioni Per mesi e mesi Della vita reale Ovviamente Ma vorrei andare Abbastanza velocemente Per provare a fare Più stagioni possibili Nell'anno di Football Manager 2020 Per permettere Proprio al nostro Giallucone Grava Di allenare In campionati diversi Sempre diversi Squadre diverse E speriamo sempre più forti Quindi Andiamo Speriamo di fare I risultati In questo caso però Il Blackpool Che attacca Bravo Biccio Ad anticipare C'è Zelov Zelov Ragazzi Se lì la passava Veniva un controvedo Incredibile Ma purtroppo Non l'ha fatto Adesso però E lì davanti C'è Zelov C'è Steven Nel centro Poteva assolutamente Passaglia È stato leggermente Egoista qui Però Consideriamo anche Che ce n'erano 4 Intorno a lui Quindi Diciamo che Non gli diamo Troppe colpe Intanto c'è un Wemba Poteva tirare una stecca Lì da fuori Non lo fa C'è Knight Che però Rischia Però adesso si accentra Vediamo se l'azione Viene Sfumata Sì praticamente Non è nulla di importante Vorrei dobbiamo andare Qualcosina in più Alla squadra Per fortuna sono concentrati Intanto vediamo Mario che sviene Credo calcio d'angolo Del Black Bull Stiamoci attenti E soprattutto nel caso Contropiede a manetta Spearing C'è Guy Sulla destra Attacca il Black Bull L'azione Probabilmente Pericolosa No C'è Biggio Che anticipa Errore loro Però bravo Qui anche Spearing A recuperare subito Il pallone E un suo errore Ragazzi Speriamo Un errore loro Non ancora C'è forse Un'azione lunga No Qual era l'azione Pericolosa ragazzi Mi aspettavo un qualcosa Che Ma qualcosa Quel qualcosa Non è arrivato Vabbè mettiamo Ralf E visto che Davis È abbastanza stanco E domandiamo di più Alla squadra Che comunque Sta pareggiando Il pareggio Ci potrebbe anche stare De Medrio Ragazzi Deve stringere i denti Perché Il suo Il suo Alter ego La sua riserva È infortunato Quindi Fa il bravo Mettiamo Hamilton Che sto allenando Anche per giocare Sulla Sulla tre quarti E mettiamo anche Drer E No però A posto di Moemba Ecco qua Facciamo questi cambi Alla fine Sono Si ripetono Perché i giocatori Che si stancano Facilmente Quelli sono Intanto c'è Zelob Ragazzi Ma È una macchina È una macchina Sto Steven Quarta rete In due partite Ufficiali Assist di Zelob Zelob Ripeto Era stato Chiamato È stato comprato Per segnare Balanghe di gol Ma per il momento I gol li sta facendo Steven E gli assist Zelob Mi aspettavo più il contrario Però Basta che segniamo Poi per il resto Chi lo fa lo fa Per me può anche segnare Mario Basta che vinciamo E Mancano pochi minuti Vediamo il recupero Quattro Quattro di fuoco Sinceramente Mi aspettavo di pareggiare Questa partita Assolutamente Non di vincela Per come si erano messe le cose Secondo tempo Abbastanza morto Intanto c'è ancora Steven Rischiamo di fare il 2-0 Non viene fermato Minchia Steven Veramente a breve Si fermava a prendere un caffè Poteva provare a tirare Ma non l'ha fatto Comunque Ottima vittoria Ripeto Per come si erano messe le cose Mi aspettavo un pareggio Invece Ottimi Ottimi Ottima partita E Bravi ragazzi Veramente bravi Infatti Glielo voglio dire Bella vittoria ragazzi E noi ci vediamo Fra pochissimo La partita di Carabao Cup Contro il Cambridge L'abbiamo parecchio Parecchio Sottovalutata Infatti Abbiamo passato il turno Solamente Grazie alla lotteria Dei calci di rigore Devo dire che Vabbè la partita è finita 0-0 Siamo stati parecchio Sfortunati E non bravi A trovare la via Della rete Invece siamo stati Fortunati invece A vincere Grazie ai calci di rigore Il prossimo turno Sarà contro La Stoneville La partita che sicuramente Andremo a vedere Ma nel prossimo episodio Ragazzi Perché questo Questa partita Intanto No Zelov per poco Perché questa sarà L'ultima partita Di questo video Voglio Ad ogni video Fare 3 4 Massimo 5 partite Sicuramente Alcune me le giocherò Da solo Però Voglio Chiudere qui Questo episodio Perché comunque Abbiamo già parlato Di mercato Abbiamo visto 3 partite Ma soprattutto Sto registrando Questo episodio Quando Il giorno in cui Ho uscito Il precedente E adesso Stanno arrivando I primi commenti I primi consigli Un ragazzo Appunto Mi ha consigliato Direi anche Giustamente Di pensare Ad aumentare Un po' Il numero Della rosa Nel senso A prendere Almeno un altro Giocatore Se non di più Perché comunque Il campionato È molto lungo E ci sono Ben altre 3 competizioni Oltre il campionato E quindi Potrebbe essere Una buona idea Intanto arriva Il gol del Lincoln Prendere almeno Un altro giocatore E ovviamente Ragazzi Per farlo Devo fare Le mie valutazioni Vedere in primis Se effettivamente Ci serve un altro giocatore E Vedere un po' Sto pensando Più che altro Di prendere al massimo Il giocatore In prestito Perché Comunque Abbiamo solamente 4 giocatori Presi in prestito Ne possiamo prendere Anche un quinto In teoria Ne potete prendere Quanti ne volete Però Poi ne potete Portare solamente 5 Fra Il titolare La panchina E quindi In teoria Potremmo Prendere un altro Giocatore Però È un po' Difficile Cercare In primis Il giocatore Giusto Che sia più Forte di quelli Che abbiamo Comunque A livello Un giocatore Che si accontenta Solamente Di 100 mila euro Di ingaggio Che comunque Prende solamente 100 mila euro Di ingaggio Visto che stiamo Parlando di un prestito E soprattutto Dobbiamo anche un po' Capire dove In che ruolo Dobbiamo prenderlo Intanto c'è Knight Che sfiora il gol Del pareggio Quindi ci sono da fare Un po' Di valutazioni Non voglio andare Troppo velocemente E tanto comunque Penso che questo sia Venuto già Un video Bello corposo Spero sinceramente Di non concluderlo Con una sconfitta Però comunque Comunque vada Sono comunque contento Di questa squadra Che nelle prime tre partite Ufficiali Ha trovato tre vittorie Certo l'ultima Un po' a culo Però insomma L'importante È aver vinto Lincoln ancora Antacca Per di più Gioca anche in casa Poi non sono neanche Troppo scarsi Quindi Dobbiamo Giocare un po' Meglio in questo Secondo tempo C'è Milligan C'è Bicio Abbiamo avuto Solo un'azione Pericolosa Per il resto Non l'abbiamo fatto Granché Vediamo se La risposta La troveremo Oppure no C'è Zelov No raga Ma sto Zelov È proprio sfigato C'è Zelov Che l'ho preso Per segnare Come se non ci fosse Un domani Non ha ancora segnato Ha una sfiga Incredibile Speriamo che si possa Riprendere ragazzi Perché se no Veramente è un peccato Perché su Zelov Ci puntavo tanto Intanto c'è Demetrio Calcio di rigore Lo batte Zelov Vediamo se lo sbaglia Ecco ragazzi Voglio far battere Proprio a lui Perché Per vedere Se è sfigato Oppure no No Non è sfigato Uno pari Bravo Zelov Io però ragazzi Sinceramente Un pelo pelo Più difensivo Mi ci metto Bravo Zelov Uno pari Bel calcio di rigore Intanto qua Diluvia Anche Meteo E Sono 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 Contento Del pareggio Ripeto Una partita comunque difficile Contro un'ottima squadra Bicio da calcio d'angolo Cross al centro Ancora Zelov Bello Zelov Bello Una volta che ha segnato Non smette più Almeno me lo auguro Ha trovato Ha provato il gusto del gol E adesso Ne vuole fare tantissimi Me lo auguro Lo spero fortemente Bello 2 a 1 Ovviamente ragazzi Anche vince Sarebbe una gran figata Concludere l'episodio Con 4 vittorie su 4 Non me lo sarei mai immaginato Certo Dopo il mercato Non mi aspettavo Un Southend schifoso Perché Comunque Abbiamo preso Diversi giocatori Utili Per la League 1 Però ecco C'è ancora tanto da fare Sia sul mercato Sia sul campo E poi Ovviamente È ancora lungo Il campionato Ci sono tante altre competizioni Soprattutto questa partita Non è finita Adesso Lincoln ne può fare pure tre E quindi ci dobbiamo stare solo zitti Per di più C'è anche l'attaccante Dei tre allegri ragazzi morti Toffolo Qui in campo Calcio di rigore Perfetto Come non detto Mi sto zitto ragazzi 2 a 1 Mario fa il miracolo E lo fa E lo fa Grandissimo Io No Troppo poi Però vorrei domandare di più Alla squadra C'è Andrade C'è Andrade C'è Andrade Per un attimo Ho ottenuto un altro calcio di rigore E stato a dire Ragazzi ma siete impazziti Intanto voglio dire una cosa Ma mica è lui Ah no 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 Pensavo Tom Walker Dell'United Mi sembrava un po' strano Dalla Sesta serie Alla League 1 League 1 Mi sembrava Un po' assurdo Come cosa Io intanto Ragazzi Charlo Mi diverto a parlare Mi diverto Ma poi mi dimentico Di fare le sostituzioni Sono un cretino Me lo dico da solo Vabbè Facciamo i cambi All'ultimo secondo Abbastanza inutili Però vabbè Mancano 3 minuti Perdiamo un po' di tempo Con questi cambi Finisce qui la partita Ragazzi Minchia Southend 2 Link con l'1 Contro tutti Contro tutti Anche contro Ripeto Il cantante De tre Alle grazie morti Non si chiama Harry Però insomma Il cognome è quello Bella vittoria ragazzi Tanta tanta roba Detto ciao ragazzi Io credo che Molto probabilmente Nel prossimo episodio Già Vedremo Direttamente La partita Contro La stone villa E poi A manetta Contro Il portmott Che credo Che la partita Con il southampton Under 23 Sia abbastanza Saltabile Quindi sicuramente Abbomba con queste due partite E poi vedremo Potrebbe esserci anche L'ultima novità Di mercato Non lo so Ci devo pensare Devo tempo al mercato Voglio vedere anche se Tipo white Giocatori che proprio Non mi piacciono Possono andare via Perché così Da un colpo di mercato Ne potremmo fare anche Due o tre Quindi nulla Vediamo un po' Come si mettono Le cose Ovviamente con i soldi Che abbiamo Ci possiamo permettere Solamente Un giocatore massimo Però ripeto Devo vedere Se lo riesco a trovare Perché se ci sono solamente Pipponi Evito assolutamente Perché è proprio inutile Al massimo Andiamo a chiappare Uno delle giovanili Il primo scappato di casa Lo buttiamo in campo Detto questo Io spero che questo Vi sia piaciuto Come sempre lasciate like Commentate Condividete Fate tutto C'è che vi pare Grazie per tutto Quello che fate E come sempre Un secondo Mac94 Venite anche da Football Manager Ciao ragazzi